30 mesi per completare la Fondo Valle Sangro. Sono questi i tempi dettati dal presidente della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso nel corso della conferenza stampa che ha voluto illustrare la chiusura della conferenza dei servizi e l'approvazione del progetto definitivo per il completamento del tratto compreso fra Gamberale e Civita Luparella. L'opera, tesa da oltre 40 anni, era stata richiesta anche dall'amministratore delegato del gruppo FCA Sergio Marchionne perché proprio in Val di Sangro insiste uno degli stabilimenti più grandi d'Europa per la produzione di veicoli commerciali, la Sevel di Atessa. A disposizione, ha spiegato D'Alfonso, ci sono circa 190 milioni di euro ricavati anche dal masterplan Abruzzo. Noi abbiamo seguito tutte e tre queste attività, progettazione, pareri degli enti terzi, copertura finanziaria, cioè finanziamenti. I 190 milioni di euro sono il frutto della nostra testardagine perché crediamo a questa infrastruttura e l'abbiamo qualificata dal primo giorno come la prima opera strategica di livello nazionale dell'Abruzzo. Io mi auguro che venga scelta con le regole del mercato e del nuovo codice dei contratti un'impresa che vuole guadagnare facendo i lavori e non contenzioso. Un'impresa cioè che non vada a scontare in banca il contratto ma che vada a scontare i SAL, gli stati d'avanzamento lavori. Voglio anche mettere in evidenza che i 190 milioni di euro non sono numeri facilmente ripetibili, rappresentano la straordinarietà di un patto che noi abbiamo avuto anche con il presidente Renzi. Il completamento dell'opera faciliterà anche il collegamento con il vicino Molise e con il Tirreno. La congiungente Tirreno-Driatico, la più corta che abbiamo nella nostra regione, congiunge la Val di Sangro, quindi la zona industriale abruzzese rispetto alla nostra regione, mette insieme quattro province e soprattutto elimina quel traffico pesante di Tirre rispetto ai nostri piccoli comuni, il comune di San D'Angelo del Pesco, i comuni che sono vicini e di confine con la nostra struttura. Il capodipartimento dell'ANAS Abruzzo Antonio Marasco ha parlato di una grande sfida per rispettare il cronoprogramma. Sì, prevede una galleria importante di circa due chilometri e mezzo più un cunicolo separato scavato con una TBM come via di fuga per i pedoni. E in più complessivamente un chilometro e mezzo circa di viadotti, quindi opere dal punto di vista ingegneristico molto importanti.